Sabato 28 maggio ad Aglie è stato inaugurato il percorso con cartellonistica illustrata per la valorizzazione turistica dei luoghi Caria Guido Gozzano. Dopo la scopertura ufficiale del primo pannello, il progetto è stato illustrato dalle curatrici Stefania Crepaldi e Maria Cristina Marchiando, che hanno anche tenuto un incontro di introduzione al percorso di cartellonistica nella chiesa di Santa Marta. È intervenuta la studiosa e docente Rosanna Tappero, mentre Maria Grazia Imarisio e Diego Surace hanno tenuto un intervento sull'architettura Liberti nel Canavese. Si è poi svolta una passeggiata fra arte e architettura all'epoca di Guido Gozzano. È un percorso di cartellonistica che finalmente va a creare un supporto vero e utile specialmente specialmente per i turisti e per chi arriva da fuori. Infatti è normale che per noi alla diesi conoscere ovviamente la figura di Gozzano e tutti i luoghi in cui Gozzano ha vissuto o quei luoghi che sono stati in qualche modo parte delle sue opere. Però non è così scontato che questi luoghi siano conosciuti da tutti. Quindi abbiamo ritenuto e di questo voglio ringraziare per aver creduto con noi la città metropolitana nel fornire questo strumento. Quindi un percorso di dieci pannelli, dieci cartelloni con una supervisione anche da un punto di vista storico con immagini storiche, contenuti storici che possono appunto dare un supporto per tutti coloro che in qualche modo vorranno da adesso in avanti, quindi non solo nel centenario ma anche per il futuro, fare una passeggiata gozzaniana ad Aglie e non magari semplicemente come si fa fino adesso, quindi non solo andare al Meleto che chiaramente è la casa natale di Guido Gozzano, la casa dove amava ritirarsi nelle sue lunghe estati in Aglie, quindi però conoscendo la sua figura e i suoi luoghi a 360 gradi.